Buongiorno ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi faccio un video di Night Beauty Routine e allora come prima cosa vado a fare una bella detersione del viso con questo prodotto della Kiko e mi piace molto come prodotto perché lo uso anche quando ho il viso asciutto, lo applico come vedete lo applico sopra e praticamente poi dopo risciacquo e mi piace molto perché lascia la pelle bella detersa e anche bella morbida devo dire e sembra molto purificante l'effetto che dà e quindi mi piace molto ovviamente vado a sciacquare il tutto con acqua tiepida, non troppo calda né troppo fredda e poi successivamente passerò appunto alla crema idratante non applico il tonico la sera, lo applico solo di mattina e quindi andiamo ad asciugare il viso adesso vado ad applicare questa crema idratante della Kiko che vi avevo già fatto vedere in un video è una crema idratante appunto come potete leggere vado ad applicarla su tutto il viso e massaggio per bene finché non si assorbe no 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E appunto vado a pettinarli e poi vi mostrerò anche nei prodotti preferiti i prodotti che appunto sto utilizzando in questo momento. E vado a pettinarli e poi andrò successivamente ad asciugarli. Grazie a tutti. E direi che questo video termina qui. Mi raccomando iscrivetevi al canale e se vi è piaciuto questo video mettete mi piace e commentate e seguitemi anche su Instagram. Ciao!